Il CPM Il CPM l'ho scoperto facendo delle ricerche Stavo cercando una scuola che mi permettesse di avere un triennio di livello accademico riconosciuto Mi sono informato, sono venuto all'open day, mi è piaciuto da subito Io ho iniziato a suonare a 7-8 anni Io ho iniziato dalla batteria Poi ho iniziato le scuole medie di indirizzo musicale E lì invece ho iniziato con la chitarra Credo che il valore aggiunto del CPM sia avere un approccio molto moderno E quindi potersi confrontare con degli insegnanti che sono anche dei professionisti E che lavorano in tutta Italia, a livello nazionale, a volte anche internazionale Il mio relatore è Michele Quaini Poi negli anni ho avuto Luca Nobis, Pietro Lapietra, Claudio Bazzari, Giorgio Cocilovo Poi studio pianoforte complementare Ho avuto Giuliano Lecis, Filippo Rinaldo, Jacopo Mazza Sono molto contento di avere vari insegnanti Perché credo che ognuno mi dia qualcosa Ognuno ha una formazione diversa, ha un approccio diverso Sia sullo strumento che sulle materie complementari È importante secondo me avere punti di vista diversi In questo momento sono in tour con Claudim Che è un progetto di cui faccio parte fin dall'anno scorso Questo progetto mi ha permesso di salire su palchi molto importanti Come quello del Mediolanum Forum Quello dell'Ippodromo SNAI qua a Milano Di recente il Nameless Festival In tutta Italia ad aprire band di livello nazionale All'interno del CPM ho anche altri progetti Con alunni, alunne e anche già diplomati Che sto portando avanti ormai da tempo La collaborazione all'interno della scuola non manca sicuramente Anche perché tutti abbiamo lo stesso obiettivo E ci aiutiamo vicenda nel raggiungerlo Nel mio futuro spero che la musica sarà protagonista Sia in veste di insegnante sia in veste di attività live In particolare l'insegnamento è un ambito che mi ha sempre affascinato L'idea di poter trasmettere la mia passione alle generazioni future È una sfida che mi intriga molto Ed è anche per questo motivo che ho deciso di fare un percorso Che mi permettesse di ottenere un riconoscimento Come quello che otterrò qui in CPM Ciao a tutti, ci vediamo a scuola Grazie